pareggio a Genova, andare a dormire stanotte con 10 punti in più dell'Inter è questo l'obiettivo rosso-nero, amici sportivi benvenuti a San Siro quindicesima giornata del campionato di Serie A e Milan Brescia e la saluto da Riccardo Gentile e Luca Marchegiani Zambrotta si fa vedere molto bene Ibrahimovic a posizione regolare si propone Ambrosini, ancora Ibrahimovic mantiene il possesso del pallone, prova il dribbling, riesce ad andare via Ambrosini, Ibrahimovic sul fondo, dentro, rete Kevin Pritz, Boateng, il primo gol in Italia subito Boateng che sfrutta questo nuovo ruolo che ha trovato oggi Allegri per lui inserendosi all'interno dell'area di rigore Diamanti, dribbling su Gattuso, va via Diamanti, serve Temai cerca spazio per il cross, va via Temai, dentro, Caracciolo Abbiati strepitoso, che parata Boateng allarga molto bene per Robinho possibilità per lui, nello stretto Robinho va via, sinistro, sull'esterno della rete Ne stavi parlando, è presente, riesce comunque a trovare sempre la posizione giusta in questo caso alle spalle dei difensori Pallone sui piedi di Pirlo, subito Ibra, prova a liberarsi Ibrahimovic lì vicino Boateng, Ibrahimovic prova la magia Dastro, Ibrahimovic, dal nulla inventa il gol 3-0 Sembrava finita l'azione, tanto è vero Boateng sulla destra ha fatto una sovrapposizione per farsi dare la palla dal compagno che invece se l'è spostata all'interno dell'area di rigore ha saltato sul posto l'avversario Adesso Pirlo, cerca Robinho Zepinat, Boateng, Boateng, Sereni, Robinho e si salva in breccia ma Zepinat chiede scusa Boateng, può avanzare mette dentro, pallone che arriva, Robinho alto Gattuso, buon raggancio, poi il sinistro è stato bravo proprio Martinez a immolarsi e a evitare il quarto gol per il Milan Eccolo Ibrahimovic cosa aveva inventato forse è per questo che non si riposa mai Robinho per Abate c'è spazio per il cross, l'effetto subito Ronaldinho al tono primo pallone toccato quasi stava per realizzare un gran gol è finita Milan Breccia 3 a 0 tutto nel primo tempo